Siamo di nuovo qui da te perché dopo la visita di Ceriscioli si è mosso qualcosa, ma non si è mosso qualcosa in positivo, si è mosso qualcosa in negativo purtroppo. Beh diciamo che si è mosso anche in positivo visto che comunque da oggi si è ripristinato il PPH24 e hanno ripristinato i tre medici fissi all'interno delle tre strutture e si è mosso anche tanta popò dietro, mi è arrivata tanta popò che è stata soltanto una trovata pubblicitaria organizzata ad hoc, ma io sinceramente alla fine guardo il risultato, comunque il mio gesto è stato un gesto forte, è stato comunque un gesto provocatorio, ho studiato bene, io volevo creare un qualcosa che portasse diciamo in tutta Italia la problematica e la cosa ha avuto una grandissima risonanza perché quel giorno oltre a voi c'erano anche altre 9-10 televisioni, la notizia ha fatto il giro d'Italia e lo stesso Presidente mi ha detto che comunque dopo il mio gesto ha avuto ancora più pressioni e quindi ha accelerato ancora di più a portare una risoluzione in tempi ancora più brevi. Tu fai questo, vuoi usare la tua malattia per questo, non a fine personale ma a fine di tutti quanti coloro che vivono questa condizione. Sì sì esatto, io uso la mia malattia come diciamo mio fardello, faccio vedere che nonostante una patologia molto debilitante come la mia, io comunque riesco ad essere il protagonista io della mia vita in primis e di certo non ho assolutamente voglia di stare seduto e aspettare che la malattia va avanti. Ecco tu hai ricevuto insomma offese, minacce, insomma il ventaglio è ampio ma questo non ti scoraggia e non ti abbatte. No no non mi scoraggia, io ogni giorno comunque anche tramite Facebook ricevo comunque molte contestazioni che si possono anche stare perché ognuno la vede come la vede ma su Facebook comunque vedi la persona, ci parli, ti confronti. Però è successo anche che sono arrivati dei gesti pesanti tipo mi sono ritrovato un chiodo misterioso infilzato nelle gomme dopo due giorni prima che avevo fatto una protesta rifiutando un premio e mettendolo in beneficenza. Mi è arrivata una lettera all'anonima casa dove mi si augurava che mia figlia potesse assistere al mio decadimento molto doloroso però che lei potesse assistere visivamente alla cosa che ha insultato la mia famiglia e quindi è andata a toccare cose che non riguardano più me ma riguardano le persone intorno a me. Quella è stata forse la battuta più forte che purtroppo ancora oggi sia la mia compagna che i miei genitori ne portano il peso perché loro non essendo abituati a ricevere determinate cose l'hanno presa molto molto male. La mia forza è la consapevolezza che la mia è una lotta contro il tempo, so che la malattia ogni giorno mi porta via un parte di me e quindi mi spinge ancora di più a essere ancora di cosa ancora più forte rispetto a una persona normale, infatti già sto organizzando un grossissimo evento per Federico quindi io non mi fermo. Immagino che il tuo più grande stimolo e sprono in questo momento sia tuo figlio. Certo, certo, mia figlia è quella che mi dà la forza comunque ogni giorno anche quando non avresti neanche la forza di tirare su un braccio e di soffiare il naso, la guardo lei appena la sento piangere quando la vedo poi tutta sporca, di cacca, allora sì, la giornata è cosa.